I posti belli? I posti belli, ma questa è la mia vacanza. Natività? Natività originale? Natività originale? Napoli. Napoli, Napoli? Napoli. Napoli, Napoli, Napoli. Napoli, Napoli. Eh no, perché c'è dietro i porti, dietro i san Giorgio, dietro i torri. Dove sei Napoli? Dove sei Napoli? Del centro del centro. Esatto. Come diceva il tuo film, per orgoglio dei dollari, al cuore l'anno fuggito. Sai una frase che dice al cuore, è disfunzionata da qualche parte. Allora, noi adesso, visto che mi dicono di stringere la regia, non per me, ma per te. Assa Scaletti e Prove. C'è il premio. Eccolo qua. Questa è una cosa che io fai, io do il disco a tutti. Però l'anno scorso abbiamo creato, sotto il mio disegno, diciamo idea, di fare questo giglio antenna. Praticamente antenna campania, il giglio è esclusivo, io sono amici. Lo faccio ogni anno per i bigli. E per gli altri, i giri ci chiamano il disco. E la scuola. Qui invece poi c'è questo. Questo è un premio speciale. Allora ci arriviamo. Eccoci qua. Facciamo vedere, facciamo...